Ancora ben trovati dalla redazione di Chirenze Smart in studio Agnesia Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 verso nord, rallentamenti per ripristino urgente della pavimentazione tra Calenzano e B1 Variante, carreggio top posta, coda in uscita a Firenze Sud per lavori. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze, tra Prato Ovest e il Bibo con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo in FIPRI rallentamenti per traffico tra Scandici e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. E' maltraffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale incarreggiata su via Gabriele d'Annunzio, oltre loro i dettagli nelle prossime edizioni. Può aversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.